Ciao a tutti ragazzi siamo su un nuovo video Oggi ragazzi ho creato un nuovo canale Salmano Regatto A noi tutti quanti su quel canale Che poi farò una live Si tu mi iscrivete tutti quanti su quel canale Arriviamo a 20 iscritti Con quell'altro Però sto sempre sola a questo E farò un'altra live Questa qua era un avviso per venire la live Fate presto a venire la video Ciao